Ecco avete sentito il dottore Vindigni, noi più volte abbiamo visto che c'erano diversi modi di pensare su questa storia del reddito di cittadinanza che poi incide per un certo numero di miliardi a livello nazionale. Però uno dice, Mizzini spendiamo tanti, la guerra, facciamo le armi, allora questo qui alla fine serviva ad aiutare italiani, che poi non erano neanche tutti italiani, italiani che hanno grosse difficoltà. Però purtroppo abbiamo visto che spesso c'erano i furbetti, come ha detto il dottore Vindigni, è giusto che si facciano i controlli perché probabilmente all'inizio, partendo dall'Inps, non si sono fatti i controlli giusti. Per cui basta che uno fa la domanda e gli veniva accolta. E quindi c'era addirittura persone che pigliavano tre redditi di cittadinanza e stavano nella stessa casa perché risultavano ognuno a sé come stato civile. E quindi è chiaro che queste cifre erano enormi, c'era chi scialacquava e chi invece aveva veramente grandi difficoltà. Però bisogna sempre pensare che c'è gente che ha davvero delle difficoltà. Scrive Peppe Calabrese e dice cambiano le regole per il reddito di cittadinanza. E allora dice da qualche giorno molti percettori del reddito hanno ricevuto la comunicazione. Allora quello che vuole sapere Peppe Calabrese è se in qualche modo il sindaco di Ragusa, l'amministrazione Cassì, possa pensare a sostenere le famiglie che di colpo non percepiranno più questo reddito di cittadinanza. Io sono d'accordo con Peppe Calabrese, dice chi non riceve più il reddito ed è veramente in difficoltà, come facciamo? Però è anche vero che viene demandato ai comuni e comunque dovrebbe essere demandato ai comuni i controlli di questi redditi di cittadinanza. Perché il comune sa benissimo con chi ha a che fare, sa dove abita, sa dove è messo. Allora se i servizi sociali, le squadre delle comune sono in grado di fare queste indagini, poi quando si trovano quelle famiglie che davvero hanno le difficoltà, allora lì è giusto che l'amministrazione intervenga e dia una mano. Perché non possiamo lasciare davvero quelli che non hanno come arrivare non al fine mese, a metà mese e li lasciamo così. Come devono fare? Ecco che dice bene Calabrese, nello spirito sociale del PD, dice, la scelta scelerata del governo Meloni, con la quale non si fa altro che macelleria sociale, dice il segretario, si abbatterà inevitabilmente anche sulla nostra comunità. Purtroppo nella manovra di qualche giorno fa il comune di Ragusa per l'assestamento di bilancio non ha messo niente, nessun impegno di somme che possono ammortizzare l'impatto sociale. Allora io insisto nel dire, la prima cosa da fare, visto che il comune di Ragusa è un'amministrazione sana, pulita, ha anche un po' di soldi da parte, addirittura si è tolto tutti i debiti che si poteva togliere invece di in 5 anni, se li è tolti in 2, insomma ha fatto a risparmiare mollechina, mollechina, si è risparmiato tutti i soldi, ora è giusto che se c'è qualche problema possa intervenire. Poi è naturale che ci sono tantissimi impegni, anche ora arriva l'estate, le manifestazioni, insomma ci sono tante cose da aiutare, avete visto anche un po' la provincia regionale è stata, anzi il consorcio è stato chiamato in ballo da questi colleghi che gli stanno facendo le pulci su tante cose, sui contributi, sui soldi che vengono dati alle varie manifestazioni, ma la provincia l'ha sempre fatto, anche lì certo bisognerebbe capire perché dai 8.500 euro a uno e 2.000 a un altro, bisognerebbe capirlo. Però in questo caso se il comune decidesse prima di tutto di fare i check, i controlli reali e poi andare a vedere chi ha davvero bisogno e dargli una mano. E parliamo ancora di politica, questa volta proprio di Ragusa. Questa mattina si è tenuta a Ibla la conferenza stampa di Fratelli d'Italia per presentare i nuovi coordinatori cittadini della provincia sul territorio, quindi non solo per vedere cosa si può cambiare. Non ci dimentichiamo che Fratelli d'Italia in qualche modo in questa campagna elettorale non è stato un fulmine di guerra, ci si aspettava di più perché c'era la spinta del governo nazionale, c'è questa svolta a destra che però poi a Ragusa non c'è stata, a meno che non si consideri di destra anche il sindaco Cassì. Quindi a questo punto era giusto, come accade in tutte le parti del mondo, scusate alla SAC, che a un certo punto bisogna cambiare l'allenatore. Qualcuno deve prendersi le responsabilità. E quindi, come vedete, i massimi vertici dei Fratelli d'Italia, vedete il senatore San Lemi, vicino c'è Rocco Bitetti, consigliere comunale, il sindaco Pogliese e l'onorevole Giorgio Assenza, vedete inquadrato. È stata una conferenza stampa organizzata in un luogo a meno, diciamo, in un BNB particolarmente suggestivo, però anche difficile da raggiungere, dobbiamo dire la verità, perché remmo le forze politiche di pensare anche ai poveri giornalisti. Piuttosto che organizzare una conferenza stampa quasi sopra al distretto, dove poi non troviamo posteggio, preferisco che me la fate in Piazza Libertà, da qua, anche al bar, insomma, l'importante è che ci rendete la vita un po' più facile. Comunque, questa è andata così, allora noi ora sentiamo San Lemi e il nuovo coordinatore cittadino di Ragusa. Vediamo, sentiamo.